Pochi punti di pubblicità e iniziamo subito con la seconda parte. Come potete vedere sono cambiati gli ospiti. Ci è tornato a trovare il nostro sociologo, il nostro professor Antonio Sacca. Buonasera. Abbiamo una ospite nuova, la dottoressa Eleonora Mingoglia. Buonasera. Abbiamo un ospite ormai che ci accompagna in varie puntate, la dottoressa Roberta Ancona. E ritorna dopo, dopo tanto tempo, anche in passata edizione, il nostro professor Mario Quinto, anche perché poi alla fine sappiamo che devo chiedere, forse ce l'abbiamo fatta, no? Con la negoziazione a tornare in campo, professore. Allora, il suo ritorno coincide con un evento importantissimo. Passiamo dal lavoro a un nuovo libro. Però questo libro è fatto di umanità, di incontri. Ecco, come si è costruita la personalità del professor Sacca? Dopo gli incontri, con chi? Con chi si è incontrato? Guarda, io nel 62, ero estremamente giovane, ho mandato un saggio sulla letteratura italiana attuale ad Alberto Moravia, che era direttore della rivista Nuovi Argomenti. Io avevo studiato a Firenze e poi ero tornato a Messina, avevo scritto questo saggio e l'ho mandato a Moravia. Era un saggio di 200 pagine che prendeva la letteratura, diciamo, dagli anni 20, Pilandello Svevo, con qualche accenno a vergama, Pilandello Svevo, fino al 62, proprio all'anno in cui ho fatto il saggio. Ho mandato a Moravia e non ne ho saputo nulla. Un po' indispettito, devo dire. Sono venuto a Roma e mentre proprio andavo a Piazza del Popolo, pidi al Caffè Rosà di Moravia. Era seduto con un'altra persona, mi presento, sono Antonio Sacca, e lui sobbalsa e mi dice che proprio senza che io gli chiedo nulla, che ha ricevuto il saggio, lo pubblicherà su Nuovi Argomenti. E che, insomma, francamente non era la cosa più ovvia di questa terra. La rivista Nuovi Argomenti era la più importante rivista europea, con tempi moderni di Sartre. E in realtà nel 1963, marzo del 1963, esce la rivista con il mio saggio, il saggio sulle letture italiane attuali. Questo saggio ebbe un effetto detonante, dinamitardo, se posso usare questo termine. Non si può immaginare che cosa avvenne. Perché? Perché? Perché io criticavo tutta una letteratura, tra il neorealistico e, a mio avviso, il falsamente impegnato, tra Calvino a Vittorini, che non mi piacevano, né come scrittori né come orientamento. Valutavo Moravia perché aveva un'impostazione di analisi sulla borghesia molto verosimile, molto reale, era un narratore molto concreto, sulla borghesia romana e sulla sottoborghesia, diciamo, il proletariato nei racconti romani, che sono molto interessanti, sia i racconti che i romanzi, che i racconti romani. E poi valutavo qui e là Pasolini, tutti i Piovene e così via. Ebbe, ripeto, un effetto detonante e mi aprì tutte le porte della cultura italiana ed europea e da qui nasce questo saggio. Perché io conorbi Cuttuso, conorbi Pasolini, conorbi Pratolini, conorbi Goffredo Parise, poi i più giovani, i miei coetani, da Ciamaraini, Enzo Siciano, Walter Petrullà, Lucio Villegas, eccetera, eccetera. A distanza di anni mi è venuto voglia di rievocare queste cose e sul quotidiano Il secolo d'Italia feci 20 ritratti di questi personaggi. Alcuni li ho messi nel libro, alcuni li ho depurati perché avevano scarsa rilevanza per quel che io volevo fare. C'è l'Anna Magnani, c'è Ugo Spirito, di Anna Magnani sono stato amicissimo. E devo dire, insomma, il libro è uscito da qualche giorno, ma sta rumoreggiando. Facciamolo vedere, facciamolo vedere il libro. Sì, ecco, è così. E la mia giovinezza. Tu chiedi, è vivere la mia giovinezza attraverso gli altri. Ecco, gli altri mi fanno rivivere la giovinezza. Io sono stato Moravia, io sono stato Pasolini. Togga la mano così siete meglio il libro. Sì, io sono stato Moravia, Pasolini. Io sono stato gli altri. Ah, io sono stato gli altri. Ecco, ed è bello perché li ho conosciuti in maniera totale. Cioè, era proprio amicissimo. Pensa che Moravia mi ha pubblicato, per te il numero di seguito, su un nuovo argomento, tre mie saggi. Poi, per questioni che ora è inutile dire, sono del tutto personali, le cose sono un po' distaccate. Perché io mi sono messo, ho avuto una relazione con una donna che era molto ostile, diciamo, all'ambiente di Moravia. E questo mi ha un po', diciamo, fatto deviare i rapporti con Moravia. Però sono rimasto amico di Pasolini. Pasolini andavamo a cena con lui al Linetto, al Bolognese. Qui ci sono le ritrattistiche di queste personalità. E anche, devo dire, il lato oscuro di queste personalità. Pasolini, ad esempio, aveva un lato, come dire, comprensibile e un lato molto suo. Se ne andava la sera a cercare, insomma, vicende del tutto drammatiche. E che poi finì come finì, insomma, ecco. Moravia era un uomo estremamente emotivo, di molta comunicativa, visto che qui, diciamo, parliamo di comunicativa. È quello che si dice, la comunicativa emozionale, ecco. Lui comunicava attraverso le emozioni. Non c'era niente. E' curioso questo fatto. Moravia passava per un intellettuale. E in realtà, fondamentalmente, lo era. Ma era soprattutto un'intelligenza nutrita dalle emozioni. Ecco, la sua intelligenza derivava da ciò che sentiva. Allora, io vorrei adesso cominciare a fare interagire i nostri ospiti. Dottoressa Vingoglia, potremmo dire che il libro del professor Saka, c'è l'idea che lui vede la sua crescita attraverso questi incontri, sia poi alla fine un percorso pedagogico. Certo, educativo. Io ho vibrato avere il libro dalle mani del professore. Proprio l'ho preso in questo momento. E ho avuto una bellissima vibrazione. A parte che ho uno spaccato della nostra cultura, personalmente ho anche approfondito tutto l'immaginario poetico, e letterario infantile del personaggio Moravia, che molti non conoscono. Conoscono il letterato, non conoscono il Moravia pedagogo, il Moravia che colloquia con il bambino interiore. Sulle storie della preistoria c'è tutto uno spaccato di Moravia all'interno di quello che è il fantastico mondo dell'Africa, questa cultura primitiva, proprio primordiale dell'infanzia. Mi è piaciuto moltissimo e spero veramente che questo testo possa essere realizzato in un film, perché si legge con una freschezza storica che per me dovrebbe andare in mano a ogni ragazzo, questo libro. Ecco, infatti questa è la mia domanda. È il vero, sono i veri scalini che si percorrono nella crescita? Cioè quello dei rapporti con le persone? Avere il contatto con dei personaggi che fanno ricerca, che cercano di scoprire, sia da un punto di vista letterario o scientifico, la propria attività umana, secondo me è la miglior scommessa che possa avere un bambino, un ragazzo per crescere, perché ti metti in contatto proprio con la realtà. E questo purtroppo la scuola adesso discosta molto il mondo della conoscenza da quello che è il mondo della realtà e della creatività. E sta approfondendo gli studi, ha portato delle riviste, mi sembra. Allora, noi siamo un gruppo di movimento olistico e questa è una rivista Lo G di Verso delle Camere, cortesemente. Lux Terre, che tra l'altro ha un'esperienza editoriale quasi di tre anni, dove all'interno scrivono persone che fanno ricerca nel mondo olistico, dalla pedagogia alla spiritualità, all'antropologia, l'educazione e anche argomenti di carattere scientifico. La rivista è accompagnata da convegni che vengono svolti durante l'anno a carattere tematico di approfondimento di varie discipline. Ottimo, ottimo, ottimo. Ecco, Roberto ancora, andiamo sulla comunicazione, perché certo io ho raccolto tanti elementi dalla descrizione fatta dal professor Sacca, cioè, si vede che il libro è proprio, no? Nel senso che si vede che è un proprio percorso. Vediamo anche cosa ha portato, no? Cioè, alla fine, io ho intuito questo, avrebbe, era la persona più contenta del mondo quando Moraglia gli ha dato spazio, se ci hai fatto caso, però poi alla fine ci ha rinunciato per amore a Moraglia. Cioè, alla fine, allo stesso tempo, è riuscito ad allontanarsi per un'altra scelta che ha fatto. Ecco, dal punto di vista comunicativo, che cosa pensi, cioè, rispetto a quello che ha descritto Sacca? Allora, ci sarebbe da dire tantissimo. Io sono scenografa del pensiero perché all'interno dell'Accademia delle Belle Arti mi sono resa conto di quanto la potenza del pensiero sia fondamentale nella comunicazione, nei rapporti interpersonali e persino tra gli organi, perché precedentemente, nella prima parte, abbiamo parlato della comunicazione fra gli organi, quindi elettromagnetica, dell'acqua che comunque è così addirittura recettiva, un terremoto da una parte e poi l'acqua che subisce le, come dire, le vibrazioni, quindi la comunicazione, c'è una sorta di trasformazione. Arrivo al pensiero, al concetto della scenografia del pensiero, perché il pensiero determina tutto. Prima si parlava di Moravia, quindi lui che si sente partecipe nella vita di Moravia, Moravia che gli dà questo spazio, poi per una scelta, guarda caso, si allontana. E tu non ci crederai, ma in questi giorni sta accadendo nella merita qualcosa per cui addirittura altre persone, per scelte dovute più o meno alla stessa situazione del professore, uomini che si ritrovano lontani da un percorso perché c'è qualcosa, qualcuno che devia e quindi influenza questo percorso che magari può avere invece un respiro, potrebbe avere un respiro più ampio. La comunicazione e il pensiero è fondamentale per poi creare una sorta di aggregazione, interazione fra tutti noi. Diciamo che in questo momento sta mancando, vuoi per influenze esterne, vuoi perché per tanti motivi, ci stiamo ammalando a livello organico sempre di più perché evidentemente abbiamo una comunicazione assolutamente sbagliata. Se uno deve percorrere un libro come ha fatto Saccano, un libro che è fatto di incontri, però dopo lui fa un passaggio dove si va a impersonificare se stesso all'interno di questi personaggi, quindi in sé costruisce una scenografia, nel senso che lui costruisce intorno a sé uno scenario. Ti è mai capitato di proporre come scenografia il fatto che un uomo si impersonifica in altri uomini? Beh, è tutto così il mondo, sia della scenografia, della regia, della fotografia. Alla fine si è protagonisti e nello stesso tempo registi, quindi si vede da dentro e da fuori. Il mondo della scenografia è un mondo che ti dà veramente tante possibilità perché tu hai la possibilità appunto di vedere da vari punti di vista, prospettiva e quindi tu stesso, come diceva il professore, addirittura sei gli altri e quindi non solo protagonista nel momento in cui tu scrivi, ma nello stesso tempo colui il quale entra in relazione e quasi incatarsi, diciamo così. E a proposito della sempre comunicazione a distanza c'è una grandissima opera di Arthur Miller, Vetri Rotti. Lei a distanza di migliaia di chilometri avverte il dolore degli ebrei che sono costretti con lo spazzolino da denti a pulire i marciapiedi e ne assume talmente tanto la carica di sofferenza, di negatività che si paralizza. Chi è che la fa uscire da questo stato grazie alla comunicazione è un dottore che dice questa donna finisce sulla sedia a rotelle perché ha un problema, un problema di empatia, un problema di sofferenza perché se anche a distanza lei incarna in se stessa quel dolore e riesce a farla uscire come Jung nella famosa storia di quella donna che poi verrà ammazzata, lei era affetta da esteria semplicemente perché non riusciva a comunicare con i suoi genitori. Professor Quinto, ecco, io il primo impatto che ho avuto ascoltando Saccapa, l'altro libro ci ho visto poca mediazione, ecco, nel senso che tutti i suoi incontri sono stati incontri dove si è, diciamo così, ognuno accolto dall'altro ma nel momento in cui forse si è arrivato all'intersezione non si è messo in pratica nulla di quello che lei ci insegna fino ad oggi, ecco, che insegna da ormai oltre 15 anni in Italia tutto quello che è invece è il beneficio che c'è dietro la mediazione e la negoziazione. Non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Quanto si può bonificare nel rapporto internazionale? Eh beh, certo, il sistema Italia, la cultura Italia, il modo di relazionarci con gli altri negli ambienti più disparati, all'uso in particolare, non so, a quello politico, a quello scolastico, è fondamentalmente basato sulla contrapposizione. È quasi connaturato vedere delle persone che spesso, a proposito di incontri, anziché parlarsi l'uno con l'altro, continua ciascuna persona a pensare al proprio modo di ragionare, alle proprie opinioni e sostanzialmente si disinteressa a quello che dice l'altro. Purtroppo questo è un fenomeno molto, molto frequente. La negoziazione prima, cioè come favorire un accordo tra due parti in quanto loro intervengono direttamente, oppure la mediazione, cioè quando questo dialogo sia facilitato dall'intervento di un terzo imparziale, si basa proprio sul concetto opposto, nel senso che deve essere costituita, deve essere concepita la strutturazione dell'incontro finalizzato proprio su ciò che le parti vedono come comune e l'intervento del terzo imparziale deve aiutare le parti stesse a far vedere loro quello che loro istintivamente non riescono a vedere perché spesso sono accecate dalla contrapposizione, dall'odio, dall'antipatia e tutto questo in Italia, ahimè, con i nuovi mezzi di comunicazione si sta ulteriormente esasperando. Ecco, questo è proprio che volevo cercare di capire per ridarmi una chiave di lettura proprio per Libro Isacca, per poi fare la stessa domanda anche a lui. Ecco, due o tre strumenti affinché l'interrelazione, due persone che hanno un interesse, no? C'è comunque un interesse l'uno verso l'altro, come si può passare da un interesse che quindi forse ti può far raccogliere poco invece a incontrarsi? un incontro? Per riprendere allora, un metodo più banale e evidente che si possa immaginare per rispondere molto semplicemente a una domanda che in realtà è piuttosto complessa e articolata e meriterebbe molto più spazio è quello di abituarsi all'idea che anziché parlare attraverso affermazioni ci si confronti ponendosi delle domande. Fare affermazioni significa emettere giudizi, molto spesso i giudizi non sono affatto tali ma sono dei pre-giudizi e quindi ce la cantiamo e ce la suoniamo ognuno da solo invece si dovrebbe maggiormente diffondere in qualsiasi ambiente in qualsiasi livello formale o informale che sia una tendenza a incuriosirsi dell'altro e la curiosità può essere espressa soltanto attraverso delle domande aperte perché la domanda chiusa cioè quella che contempla la risposta sì o no è una forma di non dialogo evidentemente. E cosa accade? Vorrei capire diamo qualche indizio ai lettori del suo libro ai prossimi lettori del suo libro rispetto a questa chiave che ci dà il professor Quinto sono stati incontri con affermazioni o con domande aperte i suoi? Ma guarda innanzitutto devo dire che io ero molto giovane molto giovane e mi trovavo con persone adulte e celeberrime uomini mondiali insomma uomini che sono passati alla storia della letteratura della cultura insomma devo dire li ho affrontati con molta naturalezza perché io avevo studiato molto e non è che ho trovato particolare cultura devo dire francamente è stata da questo punto di vista è stato un po' deludente dal punto di vista artistico espressivo è un altro campo è tutta altra cosa si può essere insieme non necessariamente uomini colti ed artisti a Pasolini ad esempio era artista non era particolarmente un uomo colto lo stesso Moravia che aveva più organizzazione mentale De Chiri che era un uomo che aveva una solida base culturale ma ora non voglio fare questa analisi di questo tipo di discorso il problema era la contrapposizione visto che parliamo in termini comunicativi tra il moralismo di un siciliano che aveva soprattutto e sostanzialmente studiato ma che non conosceva i canoni della vita di gruppo e un gruppo di persone che pur non essendo talvolta in gruppo ma molto in gruppo Moravia aveva un ampio gruppo ecco aveva tutt'altra mentalità e tutt'altra etica e qui il problema comunicativo fu un problema di scontro etico cioè perché il provinciale qual ero io moralista insomma grado che se vedeva una ragazza che ti diceva insomma voglio farla con te allibiva letteralmente perché in Sicilia l'idea che una ragazza diceva un uomo questo era la fine del mondo proprio una puttana proprio più totale non so se mi spiego e invece questo accadeva insomma perché io ero esteticamente abbastanza apprezzabile e le ragazze erano molto disinebite cosa a cui ero disabituato nella maniera più assoluta vedere ad esempio gli omosessuali praticare l'omosessualità per me provinciale siciliano che pur aveva studiato a Firenze ma che di questo mondo era totalmente estraneo non è che fosse una cosa che mi entusiasmasse c'era il retroterra siciliano del vizioso eccetera e questo questo ha bloccato la comunicazione non so se mi spiego perché non l'aspetto intellettuale con Moravia si parlava benissimo era un uomo apertissimo libero veramente gradevolissimo nella conversazione e che avevano un grado di acquisizione di comportamento che io non avevo per cui avevo le resistenze moralistiche che poi non bisogna dimenticare il libro è il 68 tutto questo che ho vissuto poi si colloca io ho pubblicato nel 63 anno più anno meno nel 68 dove io già ero docente all'università invitato Pasolini Moravia eccetera e vedi questa trasformazione e l'ho vissuta così come ho vissuto la caduta del comunismo il passaggio dalla società agricola alla società industriale gli annunci della società dei servizi ho passato l'evoluzione della donna la donna come protagonista attiva della sessualità non soltanto come soggetto passivo della maternità io ho vissuto tutte queste modificazioni a cui onestamente devo dire non è che ero pronto disinvoltamente le ho vissute molto drammaticamente ecco ecco invece adesso dottor Riesa mi sembra che il problema non si presenta con i giovani di oggi assolutamente i giovani di oggi possono fare tutti i tipi di incontri e non so se sottovalutano o se invece superano tutti i limiti cioè questo è il discorso mi sembra un po' che qui manca un un recinto un riferimento un recinto morale un riferimento ecco rispetto ai giovani certo che sentire questo racconto di Sakai e mentre pensava lui pensava il giovani di oggi ho detto porca miseria come è cambiata la nostra società infatti i ragazzi quello che richiedono anche perché lo richiedono richiedono proprio delle conferme al mondo degli adulti e non trovano a volte delle risposte molte volte i nostri ragazzi anche per quanto riguarda l'educazione sessuale bisogna ricominciare tutto da capo anche sui contraccettivi non ne sanno quasi nulla rischiano di rimanere le ragazze incinte e non sanno che esiste il contraccettivo nonostante l'informazione televisiva o quant'altro cioè sono le famiglie sono proprio disarmate perché comunque il dialogo generazionale ecco quello che ha fatto il professore tra la famiglia e il giovane è quasi interrotto è quasi interrotto può essere mi sbaglio mi corregga mi è venuto in testa il termine paura mi sembra che vediamo la inchiave positiva avverto nei giovani del tempo di Sacca una sorta di paura no? una paura della novità no io non parlerei di paura nella sua generazione ho l'impressione che i nostri di adesso non hanno paura di niente cioè in sé non ci credo che il contraccettivo la pubblicità oggi le informazioni si vedono la pubblicità del preservativo ma non arriva no ritengo che non c'è non c'è perché se dicevo il termine paura poi può essere che mi sbaglio non gli da non gli da un alert cioè la novità non allerta perché se dicevo paura cioè non mi mette timore la novità io non vedo che i giovani hanno timore della novità e quindi di conseguenza in sé sono il contraccettivo sì ma non ho il timore degli effetti che non lo uso quindi vado tranquillo per esempio anche il problema del delitto giovanile sessuale è in chiave virtuale io lo posso fare perché vedo i fumetti vedo i film i telefilm per cui rientra proprio in un discorso tra il virtuale e il reale non c'è più il limite ecco il senso del limite proprio diventa un discorso quasi normale che ne so fare delle azioni fuori dalle regole fuori dal per cui il ragazzo non controlla perché non ha più il punto di riferimento dell'adulto che lo guida che comunque gli dà anche delle indicazioni regolative sgredolanti come le dava Moravia perché Moravia è stato un uomo sgredolante ma Moravia se uno va a leggere la sua letteratura era altamente morale questo lo sto dicendo proprio con cognizione di causa anche perché ho fatto un approfondimento pedagogico sui suoi testi proprio su questo mondo interiore il travaglio proprio del bambino Moravia quando è stato male nel letto la sua letteratura è nata nella sofferenza di un letto dove lui era stato privato proprio della libertà del bambino che giocava per cui è questo Moravia aveva un forte senso del limite comunque nel suo modo di essere sgredolante nella società ecco proprio poi voglio tornare su star con me una cosa volevo allora dottoressa ancora volevo un attimo cercare di ricare un collegamento con il professor Quinto cioè mi sembra che all'interrelazione di cui parlava il professor Quinto negoziazione mediazione quindi poi quelli che sono i benefici che poi Quinto gli chiederò un passaggio successivo su una nuova azione legislativa che sta cambiando però ecco forse anche ciò che ci circonda ciò che circonda un'interrelazione può essere ecco importante può incidere io vorrei dire un tempo c'era la famiglia un tempo c'erano dicevo alcune alcuni assi importanti alcune certezze intorno ai giovani e quindi come diceva benissimo Saccaccia era in sé un confronto con qualcosa con anche dei punti di riferimento come diceva la dottoressa i punti di riferimento li mettiamo nella nostra scenografia nel nostro quadro come potremmo ricostruire per rendere efficace poi alla fine lo strumento questo in campo al professor Quinto che scenografia possiamo costruire ai tempi di oggi ci sarebbe da dire tantissimo allora io mi ricollego alla quello che diceva la dottoressa prima la paura tu hai diciamo dato il là al termine paura e quanto i ragazzi poi non abbiano paura di nulla in realtà ai ragazzi è stato tolto il futuro per cui vivono la giornata quindi precari e allora è ovvio che non c'è più dentro di loro quella voglia di come dire costruire per cui si vive l'oggi l'oggi è tutto sommato il carpe diem è auspicabile per tutti cioè cogliere l'attimo per cui ok i ragazzi hanno diciamo secondo il mio punto di vista si sono distaccati dal contatto con il domani per cui si vive oggi si vivono sensazioni emozioni molto forti e distaccati da quello che è l'ambiente circostante cioè non c'è più questa correlazione cioè dovrebbe essere che noi stiamo alla natura l'ambiente circostante come essa stessa sta a noi ma questo non più ma perché Pasolini io avrei voluto conoscerlo cioè lui è stato un precursore lui l'aveva detto che avremmo raggiunto questi apici di assoluta non comunicabilità di assoluta disgregazione io mi sto sto cercando di fare aggregazione a proposito dei movimenti politici di persone indipendenti associazioni ma mi rendo conto che è sempre più difficile perché perché dal 68 probabilmente in poi forse per questa crisi che c'è stata nella donna questa ribellione bene la famiglia è andata la cellula madre della società è dispersa di leguata nel momento in cui tu disgreghi la famiglia io credo che non ci siano più possibilità almeno per ora cioè evidentemente stiamo andando verso il baratro per cui se non raggiungiamo il fondo sperando che ci sia questo fondo non riusciamo a risalire la china sai che mi sono fatto professore sai perché della difficoltà cioè perché da parte lei e chiunque esegue la sua scienza ha in mano uno strumento importante mi sa che però si rema contro corrente cioè io mi sono cominciato mi sono fatto questo pensiero cioè mi sono fatto che abbiamo lo strumento ottimo abbiamo una corrente che è inversa ecco perché anche questa negazione verso la voglia anche degli avvocati questa lotta contro la mediazione e la negoziazione beh come dire sentirmi dire che sono costretto a veleggiare contro corrente lo prendo come un complimento visto che questo concetto è stato espresso di recente da persona molto autorevole qui a Roma la opposizione degli avvocati la maggiore difficoltà a migliorare le relazioni umane in generale parlo è data purtroppo da una tendenza molto forte in Italia che è quella dell'abitudine ma perché cambiare se si è sempre fatto così io ho studiato in università quindi parlo dei tempi dei Garibaldi ben tre esami di diritto romano cioè di un diritto che non si applica più da 2500 anni mentre non ho studiato affatto nulla di comolo e sono andato a lavorare come avvocato a Londra pensando di sapere di essere ben preparato invece ho scoperto che improvvisamente in un attimo in pochi giorni ho capito di non sapere assolutamente nulla di quale fosse allora il diritto che si applicava nelle relazioni internazionali tutto questo a sua volta poi si inquadra in un'altra abitudine per riprendere il discorso della funzione della famiglia sulla crescita dell'individuo e sulla sua idoneità del bambino intendo ad adattarsi al mondo circostante che ha anch'essa a che fare con una ancora attuale inveterata abitudine per cui il genitore pensa che la famiglia sia un alveo in cui proteggere tra virgolette il figlio a Londra notai e sto parlando di molti anni fa la tendenza è esattamente inversa soprattutto da parte della madre tra le altre cose facendo una distinzione da padre a madre e cioè che per insegnare a nuotare al piccolo la cosa più semplice era buttarlo in piscina vediamo come se la cava farlo entrare da piccolissimo in club per vedere come se la cavasse con i suoi coetani visto che tra l'altro il bambino per natura non potrà non vivere se non dentro e all'interno dei suoi coetani e non quindi i genitori non dovrebbero pensare questo è il messaggio per far funzionare in Italia questa materia sconosciuta della negoziazione prima della mediazione poi a fare in modo che l'altro si abitui a pensare inserendosi in un contesto i genitori non dovrebbero essere opprimenti non devono dire al figlio quanto è bravo è tutto suo papà significa non è capace a pensare da solo questo è chiaro una battuta sola si torna alla mediazione obbligatoria? dunque l'argomento è attualissimo perché ormai da qualche giorno ho solo un minuto da qualche giorno è uscita effettivamente una legge che reintroduce la mediazione obbligatoria non è più possibile andare in tribunale direttamente bisogna prima passare da un organismo di mediazione per vedere se è possibile trovare un accordo su quel punto questo in generale in pratica ci sono anche nella legge delle limature che sperano nei prossimi 60 giorni cioè il tempo di conversione è nel decreto del fare in 85 articoli quindi questo è ottimo noi da questa smissione sapete ci siamo battuti come leoni per la mediazione quando purtroppo per eccesso di delega qualcuno anzi qualcosa di troppo ci ha messo in difficoltà una battuta si accade perché dobbiamo passare poi alla terza cosa cosa voleva aggiungere? io dici insomma tornando l'unico intellettuale che aveva coscienza proprio coscienza della questione di cui stiamo discutendo è stato Moravia Moravia era molto interessata alla famiglia vorrei dire questo inutile discutere il modello della famiglia basata sull'autorità assoluta del padre è crollato col 68 e ripristinare un rapporto in cui vale anche la volontà del figlio pone rapporto questione di forza quindi insomma le famiglie ormai si comportano con rapporti di forza cioè se il figlio è più forte del padre e se il padre sente in colpa verso il figlio perché sente in colpa la sua autorità vince il figlio se invece c'è una mediazione per usare il termine che stiamo usando stasera le cose si equilibrano io non è che ritengo la famiglia degli anni 50 migliore di quella d'oggi dico francamente lo dico anche come docente insomma i docenti allora bocciavano mi ricordo esperienze pazzesche in cui c'era un'autorità del docente sullo studente folle letteralmente folle dobbiamo dobbiamo chiudere allora purtroppo perché il tempo è vissuto allora io devo solo dire andiamo in libreria e cerchiamo le librerie Arion libreria Arion e cerchiamo anni 60 incontri vissuti e saccaccia parli tutti questi incontri grazie pochi secondi pubblicità e terza l'ultima parte ok